State per vedere ragazzi un video molto molto particolare, direi anche un video abbastanza crudo E un video extra che abbiamo registrato durante il nostro soggiorno a Varese per la registrazione di video dei Fanta Ho deciso di riproporvelo perché era qualcosa di troppo doloroso per non farvelo vedere In breve, visto che nella intro del video non l'ho detto, dovevo indovinare la parola che avevo scritto in fronte E ad ogni errore mi sarebbe stata effettuata una tortura Ho sofferto ragazzi Io direi che 30.000 mi piace potrebbero essere il minimo per questi traumi che non se ne andranno via facilmente Buona visione Ragazzi, vi starete chiedendo perché sono così malconcio, perché ho dei segni di scotch da tutte le parti, perché sono bagnato Beh, non a caso c'è tutta l'illuminati crew dietro di me Oggi vedrete Ah, ti sei bagnato perché ci siamo tutti Ah, perché ci siamo tutti noi Oh, firmante Oggi vedrete mille modi per torturare uno youtuber E il massimo esperto Oh, questo ha studiato in Brasile, porca troia Questo ha studiato in Brasile, torture cinesi Anzi, in brasiliani Ragazzi, vi raccomando, questo video deve superare assolutamente i 30.000 like E scrivete nei commenti Hashtag pistacchio Che cazzo dici? È la parola che hai in testa, pistacchio No, perché questa qua è... Coglione! È la intro È la intro, già sono morto Ah, sei già morto, ok, scusa Vi lascio al video, mi raccomando, like Datemi un affanculo Ah, sei sicuro che lo sei schifo, brazo? Non guardare te, fatti di grazie tu A città del lato Eh, qualcuno gliela mette in fronte? Che caldo! Ragazzi, siete stati scelti per torturarmi Penso siete contenti Io un po' meno Ma purtroppo come si dice Quando arriva la vita Arriva la vita, arriva la vita Bene, io comincerei dal mio amico Stormi Che dopo questo probabilmente non sarà più mio amico Esatto E partire con la domanda classica Che sicuramente mi farà cappottare in piscina È un uomo? Un attimo Grazie, la challenge Allora morri Dimmi, caro il mio amico Stormi Sono indeciso, inizio dalle mollette Dallo scotch o dall'acqua, direi Così ci rinfreschiamo un po' Ecco, pa' apposto Perfetto Proprio quello che mi aspettiamo Tanto ti hackero il canale Vai, allora partiamo ad onzi No, 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 sui peli, sui peli Brazzo, apro la mia vendetta anche con... Brazzo ha ragione, sui peli, vai Nooo Chiaro che no Oh, guarda che non mi passa il sangue Ci devo arrivare a fine challenge Ma devo fare anche l'altro braccio io No, no, un altro braccio no Un'altra foto Ok, grazie regia Per fare le forbici Grazie Ah, fai tu, fai tu, perfetto Grazie Grazie Abbiamo iniziato proprio col botto Mike Shosha È un oggetto? È un oggetto? Mmm Ma Secondo me No No Ma come no? Ma che cos'è? O è un estradivente o è un oggetto? Allora, adesso Visto che lui ha preso già lo scotch Eh Io prenderei una molletta Nooo Anzi due perché No, però una Che è due? Che se è un oggetto è sbagliato di tanto Ma che significa? Fagli un orecchino Facciamo gli orecchini Allora, fagli due orecchini Che mi insulta sempre Oh, quanto piaci A posto ragazzi Sono Giampytec E di Palermo ovviamente Dexter Eh, ti rispondo sì È un cibo? Sì Oh Grazie Grazie Stormi Non è Stormi Perché è Stormi? La barba è simile Però non è Stormi Spawn Non è Stormi È un pesce È Scocciare l'altra mano Così non può Potrei sapere chi ha scelto Chi ha scritto la parola Cooperativa Ah, ok, quindi Devo avventicarmelo a tutti Perfetto Hai caldo? Se rispondo di no Tant'è un po' Allora prendo lo scotch Oh, sto morendo Ma questo è ancora peggio No 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 Non volevo utilizzarlo io Spawn, lo sai che sei il mio preferito del gruppo? Eh, lo so Ma questo è quello rinforzato per i palazzi Ma appiccicano Per murare le crepe No, io volevo jumpy deck in questa sfida Sul polso Oh, quanto ne prendi? Sul polso Appoggia Sul polso Mado No, raga Basta Quanto ne prendi? Non tutto il braccio Basta Basta Non tutto il braccio Basta, basta Non tagliare il braccio No Frazi ho provato a farla questa cosa Se lo senti in storia Ma non mangiare C'è già tira un sacco No, no Jumpy deck Amico mio Cuoco e tu brutti filimi Così Eh No, me la lascia non stare Jumpy deck Jumpy deck non l'ha capito Ti prego, confido in te È un dolce Tam 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 No Però Giorgio Legagli le gambe Dato che non riesce a trovare la parola Ti do una rinfrescata alle idee Aspetta Aspetta Leva mi gli occhiali almeno No, no, no Vuoi tolti gli occhiali? No, hai canciato quasi la scritta Eh vabbè Fazienza Mi gocciate in faccia Ok, morri Adesso 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 è un'altra scritta Che cosa fai? Mi goccio Che penso Allora Non è un pesce Non è un È un primo piatto Ah Ma che divertiva dai Perché non sto zitto E almeno lo faccio Evito pure la figuraccia Brazzo Io ti giuro Io sono disaprendi Non l'avete utilizzato Per me sei il più importante Nella cronetta Questo è un po' di no Vero, non va bene Cioè io ti ho sempre stimato Perché secondo me Arriverei più in alto di tutti Di Fabi J Secondo me Fallisci domani su YouTube Quattro strike al canale Il mutuo di casa Ti esplode Ma fammi stare un po' zitto Così non fa più dover Infatti Aspetta Fai così No brazzo Fai così Bravo No Beh Vesta è bruttissima Brazzo Esiste un girone dell'inferno Aspetta Dai sto che mi collo Così poi i video Li faccio col cazzo E alla minchia Scusate Bene State boni Camper Lo so Siamo agli antipodi dell'Italia Però direi che In questo Eh Bastardo La barba La barba Mi stacchi Me ne sono reso conto ora Ragazzi sto perdendo la concentrazione È una verdura Ah Regia No No Ma come non è una verdura Che cos'è Pallinato con la molletta No Come il respiro Ok dalle orecchie Giusto Ok Acavolo Basta Minocchi Morri È facilissimo Dai morri È più facile di quello che tu pensi Aiutato Mi prego Allora non è un primo Ok Non è un dolce Non è un dolce Non è una verdura Non è neanche un antipasto Ma con Si può dire Scusate se no Non è un dolce Non è un dolce Non è un dolce Ma no No È finito di chiedere Sarò un secondo Oh raga Voglio torturarlo È per caso un frutto Non lo so Ah ma è un frutto Sì Sì Vai 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 Sosha Questa raga Mi vuoi in diretta È solo un sacco di views Non riesco a deglutire Come faccio Non mi sono mosso Mi dispiace È un frutto tropicale Le legherei le gambe Le legherei le gambe così Guarda Così Come un salame Non c'è parola No io le legherei le gambe della sedia La leggo alle gambe della sedia Eh della sedia Alla sedia Prima le gambe Tiro su No ma è show show Legalo così No oh Bene ragazzi Mi sono venuti a questa puntata Mamma mia quanto è duro Maurizio Costanzo Oggi vedremo come si riproducono gli ornitrinkhi Ornitrinkhi Eh che devo fare E piangio Adesso piangio Se rigiampi da alcun giro Sono Dai dai È lungo No E siccome E siccome Prima non l'ho fatta Adesso Tipo doppia No No Apri la bocca No Apri la bocca Ciao mamma Sì questo è il mio lavoro Corri è corto È un frutto Non è un primo Non è un dolce Non è un frutto tropicale Io vorrei dare la risposta Però Se la risposta sbagliata È doppia È doppia Va bene Corri il rischio Siete pronti? Vai Secondo me Ragazzi È l'arancia L'arancia Vai doppio È l'arancia Davvero Prego Prego È davvero Sbagliato Vai tutti insieme Off camera Perché non usate l'arancia Che è l'aranciata Raga mi sto sentendo Veramente male Oh brazo Ragazzo ti giuro Che puoi scappare Ok possiamo riprendere Apri un po' la bocca Pinti non ti becco la bocca Da qua Io non smetto Oh ho sbagliato Mira Ok Ok dai Sembra tipo Questo è da Brothers È da filmarte Questo Ragazzi Ci stiamo divertendo Direi no? Come sto andando Secondo voi? Siete a lui È rotondo? Ma Io la passiamo per buona La passiamo per buona Eh diciamo Dai solo un consiglio Possiamo dire Un consiglio Ha più forme Può essere in rotova Un po' allungato Un po' vale Tipo così? Sì Esatto Allungato Reggio Provo a dare la risposta Ma no Pazzo Ma no Pazzo Lo devo dire Sono l'iniziale Corazzo Si vi prego Limone Che c'è il limone? Ma che forma c'è Vado in maniera più tranquilla Sono stato troppo cattivo Prima No non li faccio Ti sento l'iniziale sul braccio Ti diamo un aiuto È una parola del mese Che ancora non c'è Ma allora che cosa ne so io? No una parola del mese Al video sarà la parola del mese Non devi pensare alla frutta convenzionale Arance e limoni Banane Esatto Devi pensare a qualcos'altro Secco Inusuale Secco Secco Fai così col dito No Ma sei scello Mi si rompe Quanto mi vendico brazo Quanto mi vendico Grazie mille Prego Ciao Allora Secco Mi dite qualcosa Passa sto dito Prof posso andare in bagno È secco È corto È un frutto Ma non aveva delle mollette sul naso Su una bocca Sì Da Stormy Scusami Perché ricomincia il giro E Stormy dice l'iniziale Per darti un indizio È verde È verde Sì Stormy qual è l'iniziale Allora Murray Ti do l'iniziale Però ti fai spruzzare un po' d'acqua in faccia Va bene Tanto ormai L'iniziale caro Murray Sì Sai qual è È la Ecco apri bene la bocca È la P Capito? Ok grazie Apposto apposto grazie La P Basta Io ho preso il gelato da pronta Hai preso il gelato? Sì È la parola del mese È la parola del mese Bistacchio Vai 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 Andiamo la mano La mano Vai 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 Il collo Aspetta 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 Malissimo il collo Il collo Oh regà Il collo Aspetta Eccolo Il collo Il collo Aiutatemi Tirate su Una Due E tre Ah Ah Oh Oh Questo video non si usa Ma lo dovete passare Perché faccio fallire Il collo 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 Il collo